Termina con un pareggio di lusso, il cammino del miseria e nobiltà. D'Angelo e compagni impattano 6-6 con il New Team San Giuseppe, grazie alla rete in extremis di Cataldo, autore di una tripletta. Match che vede protagoniste due compagini ormai con la testa alle vacanze. I padroni di casa già salvi da numerose giornate, gli ospiti invece condannati a non partecipare ai play-off a causa della tanto contestata regola dei sette punti. Apre le danze il capitano della New Team, Bifulco, che porta i suoi sull'1-0. San Giuseppe ancora pericolosa con la traversa, colpita da Ambrosio. Poi la reazione del Maddaloni con la rete di Fusco, abile a trovare l'angolino con l'esterno destro. Ancora i locali in avanti colpiscono il palo con D'Angelo e si rendono pericolosi con una bella conclusione al volo di Cataldo. La squadra in trasferta però dà dimostrazione della propria forza. Palo di Liberti prima, reti di Pierro e Ambrosio, poi che incidono nel morale dei ragazzi del miseria e nobiltà, costringendoli ad inseguire. L'incontro è vivace, al palo di Pierro risponde D'Angelo con una grande occasione, fallita davanti a De Maria. Ci prova anche Rivetti, ma la conclusione non paga l'impegno del giocatore ex Cuscaserta. Sul finire del primo tempo, D'Angelo accorcia le distanze e rimette in careggiate i suoi, che iniziano la ripresa colpiglio giusto. D'orologio si rende pericoloso con il sinistro, poi l'angella firma il pari con un tiro mancino dei suoi. Veemente la riscossa della New Team, che torna al gol con Ambrosio e colpisce l'ennesimo palo con Liberti. Infine la squadra di San Giuseppe segna addirittura il pesante 5-3, opera di Carbone. Il Maddaloni non si abbatte ed è decisa ad agguantare il risultato. Ci pensa dunque Cataldo, che cresce pian piano nel corso dei minuti e comincia la propria ribalta, mettendo in rete il 5-4. Improvvisa fiammata ospite, Bifulco castiga i padroni di casa. Il 6-4 scoraggia un po' tutti, ma non Alessandro Cataldo. Dopo il legno colpito da Perro, infatti, l'ex calcettista dell'Azzurra Marigliano realizza due reti, centra la tripletta personale e regala un ultimo sorriso al Maddaloni di quest'anno. Presidente Verdicchio più che soddisfatto dei ragazzi, che solo per questa stagione si accontentano del nono posto che nella nata successiva potrebbe andare stretto. Grazie a tutti.